Anfaccia a tutti ragazzi, qui Caldo e bentornati in un nuovo video Scusate se ieri non c'è stato il video ma ve l'ho detto Era un picciolo con la seconda prova e non l'ho potuto fare Ed oggi siamo in compagnia di Cina che stiamo facendo una 2Q Ma non dovrei reggirterare la propria No frega un cazzo Gli stiamo questa, vaffanculo Cina E basta Mi rompe il cazzo, se no Te spacco lana, a che dobbiamo fa? Caprite il cazzo Mamma mia Ragazzi siamo malfight contro Ielia Cioè io ho preso malfight e ho detto Vabbè, anche se mi prendono Platinum che mi frega un cazzo L'hanno jeans e montolette game, quella mi prendi Ielia Ok, ho tanta di ping Telecom colpisce ancora Anch'io Telecom colpisce ancora, boys Ah no, io non vado Telecom colpisce ancora F***ing Telecom, brus Questa Telecom mi distrugge Preoccuparti, prendi dei cuccioli Questa Telecom mi distrugge Ragazzi, se ne ho tutti, mi hanno fatto un ball from my flight Però bisogna saperlo sfruttare Cos'è che hanno fatto? Eh? Che hanno fatto? La W Ora Ti conferisce di passiva L'armor Mentre quando la attivi fai danni A Come si dice? L'area Esatto Mentre prima Era il contrario Se la attivavi la W Prendevi armor Beh, è buono Sì, è sempre buono Perché ovviamente l'armor ce l'ha sempre Un po' di meno Perché è in passiva Però ce l'ha sempre Sperando che Middae non faccia cazzata Perché contro Fizzaglio Vedo dura A Kog A parte che in champion Anche Kog deve stare indietro Però Però questo è Exmaster Tire Quindi in teoria dovrebbe sapere giocare Però conoscendola solo Q Ragazzi Conoscendola solo Q Vediamo Siamo Diamond 4 3 punti ragazzi Perché Ovviamente Non so con quattro voi Hanno visto il video su Facebook Che ho caricato Ma Start una ranked Il mio team lagga tutto Uno va FK Tranne Però il loro team non lagga Quindi Vincono Giustamente Troppo alto volume di roll Lo basso Non so conoscendola solo Q Non so conoscendola solo Q Quanto sta Un po' troppo 10 Ora va meglio Facciamo il loro Zack Mi ha scritto di game ragazzi Perché stiamo parlando della seconda prova Facciamo di quello che ha scritto C'entra con la seconda prova Mamma che culo Non si non lei Non si non lei Non si non lei Ma se ci crepa Chi? Da un po' to' nostro ci crepa? No si sa perché fare i trash Ma zack è ancora in servisto? Ma questa mi è stata anche un po' troppo forte C'è zack dopo Già zack Are you here? Morto No mi ha flashato la E Unbelievable 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 Mi ha flashato la E Unbelievable Abbiamo preso la firste blog Eh ma conta che Dopo mi rivedo il video Dopo ti posso passare il video Perché secondo me è stato Tipo un bug Perché Ho messo up Stavo scatto Cazzo Secondo me è stato un bug ragazzi Poi ditemi se è così sotto nei commenti Perché Pare che quel flash L'avessi presa Ti è Ha flashato Boh Vabbè Flasciato contemporanea Ma per rio che L'hitbox della E Fosse partita Vabbè Il range della E Più c'altro Mi sa toplei Fizz Flash Jins No Sam Zira No Sam Yep Ti stai dando ragione Non si capisci un cazzo Di quello che è scritto Ti stai dando ragione No a realia mi ha levato già la pink Che padre Ma guardalo qua Ne ha guardato da 3 minuti Perché la top non vengo proprio Ah ma tranquillo Va bene Miss realia potrebbe venire in mid Potrebbe essere che lei la sia mid Infatti Che fa double kill Pensavo Kog può essere il 6 Visto che non era il 6 Gli ha dato qualche buff Mi pare Il blu No il blu Il blu Buono Conta che ho portato qua Quindi neanche mi posso muovere In realtà Ma in questo momento Lei uno per se nessuno Non mi può fare Perché ha la scena Raga Quindi se vuole che facciamo Giochiamo safe Per ora Appena giocchiamo la frozen earth Gli spacchiamo lano Non è meglio Che far fare No Frozen earth La sua attack speed Va tipo a 0.40 In totale Col true damage attivo Mi farà due attacchi Ma considerando che Mi vorrà kaitare Perché vuole Resettare più lato attacco Ne farà tipo a 0 Ma sempre a finire così Master Tire Che non so Ma come off Ah il TTP Si ce l'ha Regallo E arrivo del TTP Oddio è morta è morta Alla continua Puscia doppia Non cesare così tanto C'è il Zack C'è il Zack Ahia Dove regallarli Si è il TTP Oh Oh Adoro il TTP Adoro il TTP Adoro il TTP Che c'è Mazzallo Alla pattiva Fagli la ultima Aspetta Aspetta Guarda se non ci vuole nessuno di due Eh Lo sapevo io Lo sapevo io Ma ci muoro pure io Ma perché mi passa Vede qua Ma non ho fatto non morire Eh bro è facile Se focussavo Zack E là in passiva Ci morivo Che mi chiamava Jills Se focussavo Jills Direttamente Voleva scappare Perché tanto c'era il flash Infatti mi pare che ha flashato Tu non devi andare direttamente Addosso a Zack Devi aspettare un po' più di tempo O me Eh ma lì Allora mi prendeva Da più E morire Beh Ma almeno io L'avessi fatto Perdere Perdere Poi non è vero Può sapere che ti salva io Perché sta arrivando Tutti Io non lo cancherei Cogmur Proprio per questo motivo Misserelli Attento Appena tu lo ganchi Eh infatti Ho detto proprio lui Appena tu lo ganchi Fizzi che parte addosso È normale Infatti Si potrebbe kill anche senza Ti non capisco Perché non ci vado Non lo dava No Zack mid Zack qua Ho visto Sì 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 bravo, c'era zaccato appa e' great zaccato appa stavolta è rotto il cazzo ora si è ritirato il figlio eh, ora la fa cogliona, trollava e ora l'ho rotto il culo se quest'un altro non lo sa la fa ancora se un pari sta cogliona no, dai c'è certo che il cogo move e' proprio stronzo eh guarda di nuovo eh sai che devi fatte? mo 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 cerca di rimanere sempre sotto d'ore tu stai sempre in sta zona qua in modo da che se fizzero dai lo fate uno per uno perchè verde parlo lo uso per forza di Fizz capito? a noi non gli serve neanche lo si si guarda te eh qua c'è quel figlio qua c'è zacc c'è zacc c'è zacc c'è zacc c'è zacc eh però è ben serio la zacc è moglie trash c'è la lanterna lo possono obietare a zacc eh già toll? villare per zacc ah no è morto che cazzo di qua se tu vorrei la fossi stato un solo mid lo avresti villato Fizz eh eeeh vabbè vediamo se userai arriva Irelia? io non lo seguo arriva Irelia vabbè tanto è morto che è top che è top che è top eh ah no però non c'è abbastanza d'anima se a te no fratti c'è c'è oh tanke vabbè 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 buono buono non ho capito che ha scritto trash potrebbero rischiare il f non ho capito che c'è un bo qui non lo so fizzle stanno a bot toll and 7 e 1 volevo dire come? no mi sa può poter no ma sta trollando Zyron non capisco stai venendo top vabbè io si sta venendo ok non è guardato lì eh in teoria passo per dietro va eh dietro dovrebbe essere guardato no invece no mi ci faccio ingaggiare non c'ho la ultima questa è guardato vabbè basta 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 aiutami a pushar aiutami a pushar mettiamo gli paura in modo tale che non fai oh che figlia è la mia a w si oh oh c'ho un piccolo ingri mi farà decalla secondo te no devi romper il cazzo mi ricordo che ho la fusion art io buono lì buono lì buono lì bot perdiamo la torre lol che cosa? lo scuolo mi è passato attraverso what the fuck? io ero qui fermo lo scuolo mi è passato sotto bot come abbiamo fatto a perdere la torre se stanno sempre a vincere questi manca io ma attivo che zaki mi ha interrotto la ulti vado a tutti vado a tutti va vai vai ok ok va bene aaaaah non ci credo La E di Zack ha stoppato la mia ultima Non lo so Però non l'ha stoppata No l'ho usata top Ma che cazzo Eh l'hai usata prima top Eh però ti giuro che fino a 2 secondi fa Mi faceva dei 100 secondi di cooldown Porca osca Non c'ho già da prima Quanto so stronzo No infatti ero così sicuro da vicino Se no no l'ho rivippato Sta prendendo il blu Sta a far giro Ok dopo Kokomo sta arrivando No non lo so Stanno a far trago loro E Raria a questa parte E poi è stato il drago Corso Kokomovo Ariusirius bro C'è questo qua No non può scappare così E scappa così E vabbè E vabbè Che che è scappato Irelia Sì ma Kokomovo è proprio un coglione Cioè è proprio un coglione Vabbè Ha fatto la stessa cassa che ho fatto io Bato Quindi ho fatto neanche questo Poi quella scula Non c'è il discorso Oddio che culo Per un veloci tre paolo Ti fai il logget Sì Lo so già fa Perfetto Perfetto Ho già lo cinto Sì sì ho visto Alla fine Gog raga Per quanto possa essere useless Ora In letta alla fine Il danno ce l'ha lo stesso It's core Poi la fine Per quanto sta Fa schifo Il farm Cioè no Fa schifo pure il farm C'è la ulti C'è la ulti Spacco qualcosa Lo sanno Lo sanno Lo sanno Lo sanno Io non lo sanno Andiamo Prendete a venire qua Fizz 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 Però Io non ho ult Ora Sennò Mi ha un block Si Ho pure Lisciato Quindi Dai ho pure Lisciato Vai ce la fai Ce la fai Continuo Continuo Io Continuo Io Zat non andava a passivo Zat non andava a passivo Oh C'era Oh Che c***o Merda Ok A jeans Alla ulti Sta qui Jeans Fregagli Rosso Guarda Che c***o Che c***o Che c***o Non muoio 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 C'è zac 8000 tunnel Vuoi che muoio Moro Vedi a regalarla Come uno stronzo Mi ha pure Ulti Ho il tp up Quindi guarda Botti Ce la ulti Io ho 40 Strondi Ho il tp up Ho il tp up di cintoria io lo faccio prima di lei vediamo un po' se lo fa ma il resto è andato a full bruiser ecco è stato 13 ore il resto è andato a full bruiser guarda 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 c'era da qua c'è 0 a qua è morto finito è morto non ancora per a full bruiser è proprio va arriva siamo sicuri che se vogliamo passare ho 4 contro 2 ho chiamato l'intelligenza però non andare in giro io vado a far giro e vabbè carabba 3x13 kill vabbè drick 40 secondi regala ora regala ora ho la ulti ho la ulti non preoccupare mi sono da push a doppio quanto c'ho il tp c'ho ulti tra 40 faccio vedere la farm di relia ho la sound fight io arrivo a piedi là che mi frega focus è decisamente fizz fizz si diventa troviamo ragazzi che abbiamo grise fiddato per fortuna quindi fizz se decidi di focus a grise prendi un boss incredibile posso arrivare su qualsack ha la passiva ha la passiva ha lo smite ha lo smite di ha lo vabbè noi stiamo qua intanto loro pushano a bot vabbè lo stridante ha rotto il cazzo vazziamo questi qua da qua va quella ce la lasciano andiamo puoi andare no no ce la lasciano proprio questi mo ce vado oh ce le due ti te l'ha chizza fatta la cazzarella ha fatto la e su di me io non ti credo oh che lo zack di sunfire c'è decode fammi prendere chi dia fammi prendere chi dia cina lettimi chi dia però siamo dalla parte che prende meno punti è buono le botlink che vince cioè queste sono belle esperienze non le ho mai viste assurdo bordello infatti anche dopo i red ovvio che vince cina stai zitto non lo viena tutto ah non ce la faccio più aiuto vizia vorrei vizia che ha preso questo ce lo fanno ce lo fanno ci non c'erano tutti stiamo qua stiamo qua stiamo qua stiamo qua run off run off ah fannassi là narco brah vaffan la venta la venta la venta aaaaa victori vediamo quanti punti abbiamo preso secondo me tipo più sedici l'avrò preso attenzione a capire se sta a fare schifo waiting for stats ragazzi aspettiamo due minuti poi al limite se no stacco subito la registrazione se no aspettiamo e vediamo quanto eccolo qua più 15 ecco ma ragazzi io spero quanto? 17 io spero che il video ci sia piaciuto ragazzi vi è piaciuto vi vedo lasciare un bel like se vi ha commentato se vi ha condivide anfaccia a tutti ragazzi che hai lupo tu non saluti ah ok ciao ciao bella